La macchina dell'accoglienza in Campania per l'arrivo di profughi ucraini si è già messa in moto sotto il coordinamento del Ministero dell'Interno con le prefetture. Si punta a trovare soluzioni e strutture per garantire l'accoglienza di profughi, donne, bambini e familiari in fuga dal loro paese a causa della guerra. La regione Campania si è già dichiarata pronta a rendere disponibili farmaci e aiuti alimentari ad accogliere nelle strutture sanitarie, cittadini ucraini e soprattutto i bambini in relazione all'evolversi della situazione. L'assessore alla legalità, sicurezza e immigrazione della regione Campania nonché prefetto di Caserta Mario Morcone questa mattina intervenendo a Salerno ad una giornata di formazione promossa dalla prefettura di Salerno e dalla scuola regionale della polizia locale sulla sicurezza su luoghi nei cantieri edili ha confermato l'impegno del governo regionale nel fare la sua parte. Impegno confermato anche dal prefetto di Salerno Francesco Russo che questa mattina ha riferito di aver ricevuto già diverse richieste da parte di sindaci dei comuni salernitani che hanno avanzato proposte di accoglienza per i cittadini ucraini. La nostra terra è una terra da sempre accogliente, ora ragioneremo e vedremo un attimo le necessità che si presentano, ma sono assolutamente sicuro che il governo regionale si metterà a disposizione per fare la sua parte e anche di più, come abbiamo dimostrato in altre occasioni, come è stato per gli afghani, come è stato in qualche caso la bambina che è stata operata al Cardarelli. Siamo gente per bene e quindi ci facciamo carico sicuramente delle difficoltà e dei drammi di tanti che in questi giorni stanno davvero vivendo momenti difficili. Certamente il Ministero dell'Interno ha una sua rete da sempre che sono naturalmente gli ex Sprar o Gisai, ma io credo che dovremo trovare delle soluzioni più significative e meno legate magari all'immigrazione che arriva sulle nostre coste del Mediterraneo. Quindi ora vedremo il Ministero che indicazioni darà, i prefetti, la regione certamente troverà delle strutture dove questo è possibile e gli spazi ci sono tutti, forse almeno a Napoli, ma insomma nelle altre realtà campane certamente. Anche perché in questo caso si tratta prevalentemente di donne e di bambini? Ma scherza, donne e bambini, ma anche di congiungimenti familiari soprattutto. Io spero, ecco, questo sì, e spero, lo dico all'amico e collega prefetto, spero che il Ministero non si metta di traverso sui congiungimenti familiari che mi sembrano fondamentali in questo momento e che ci consentono anche di alleggerire il flusso che arriverà. Diverse le manifestazioni di solidarietà in piazza che abbiamo vissuto in queste ultime ore, si attivano raccolte di solidarietà, di beni, di medicinali, anche la regione farà la sua parte in tal senso? Ma l'ha sempre fatto e lo farò anche in questo caso, anzi addirittura con gli afghani siamo stati un attimo in difficoltà per la grande disponibilità che c'è stata verso quelle persone, quindi non ho dubbi e non ho preoccupazioni da questo punto di vista. Noi siamo pronti, come al solito, oltretutto lavorando in una regione come la Campania, in cui il concetto di generosità lo verifichiamo quotidianamente, è molto diffuso. Ci stiamo attrezzando, non appena arrivi l'anno, le disposizioni molto precise da parte del governo che ci sono state già preannunciate. Vi posso dire da subito che già ho avuto telefonate da sindaci che hanno palesato in maniera molto fattiva, già con delle proposte precise, delle possibilità di accoglienza, soprattutto di persone che verrebbero a ricongiungersi con altri ucraini già presenti nel nostro paese. Quindi adesso noi credo che in pochissime ore avremo la possibilità poi mano a mano di organizzare e vi terremo informati chiaramente per tutto quanto poi accadrà prossimamente.